Ritorniamo ancora insieme perché vogliamo parlare di un appuntamento importante che domenica coinvolgerà tutta la Chiesa. Nello specifico mi sto riferendo alla cosiddetta domenica della parola di Dio che è stata istituita da Papa Francesco e che giunge alla sua terza edizione in questo 2023. E per parlare di questo argomento abbiamo ospite, tramite collegamento Skype, Don Giovanni Frisena, direttore dell'ufficio liturgico della Diocesi di Foggia Bovino. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti, buongiorno a te, ciao. Allora, Don Giovanni, partiamo dal principio e chiediamo subito perché è stata istituita la domenica della parola di Dio. Sì, la domenica della parola di Dio è stata istituita recentemente, nel 30 settembre del 2019, quando il Papa, utilizzando le parole che leggiamo nel Vangelo dei discepoli di Emma, o scrive una lettera proprio intitolata così, Apri loro la mente per comprendere le scritture. E dunque con questa lettera istituisce la domenica della parola di Dio che chiede, venga celebrata ogni terza domenica del tempo ordinario. Dunque sarebbe un po', ecco, due domeniche dopo la festa del battesimo di Gesù. Dunque capita sempre nel mese di gennaio. E perché il Papa istituisce questa domenica? Per ricordare a tutti quanti che senza la Sacra Scrittura è impossibile comprendere gli eventi e la missione di Gesù. Dunque vuole richiamare alla Chiesa la Sacra Scrittura, che in realtà per tutti quanti noi è qualcosa di importante. La ascoltiamo ogni qualvolta celebramo le Eucaristie, abbiamo tante Bibbie all'interno delle nostre case, però molto spesso ecco queste Bibbie restano all'interno degli scaffali e rischiano di impolverarsi. Conosciamo il libro esteriormente, ma non lo conosciamo nella propria interiorità. E allora, proprio come ricordava San Girolamo, nel cui anniversario proprio il Papa indice questa domenica, l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Perché se vogliamo conoscere Gesù non possiamo che partire proprio dalla Sacra Scrittura. Allora il desiderio del Papa è proprio quello di far crescere questa familiarità da parte di tutti con la parola di Dio. Non soltanto dei preti, dei professori di teologia, delle persone che più ecco stanno a contatto a livello tecnico con la parola di Dio, ma specialmente di tutti quanti i fedeli. È logico che poi questa domenica ogni anno porta con sé un po' di iniziative che cercano un attimo di far rinascere un po' nei nostri cuori l'amore verso la parola. Ed è per questo che il Papa ricorda. Non deve essere, potremmo dire, l'unico evento dell'anno che ci fa ricordare la parola di Dio, ma deve far risvegliare nel cuore di tutti questo amore. E poi in realtà c'è anche un altro momento, un altro motivo che colloca in qualche modo anche questa domenica all'interno del cammino sinodale, che come sappiamo sta coinvolgendo il mondo intero, ma specialmente le nostre chiese d'Italia. Perché ecco, la domenica della parola ricorda alla Chiesa l'importanza dell'ascolto. E questo fatto di essere in ascolto ricorda alla Chiesa il suo essere missionario, il suo essere proiettata verso l'alto. Dunque assume una doppia valenza, imparare ad ascoltare Dio, ma imparare ad ascoltare Dio anche i fratelli. Ecco, il motto di questa edizione è ripreso dal Vangelo di Giovanni, un versetto che dice, vi annunziamo, o meglio più che dal Vangelo, dalla prima lettera di Giovanni, chiedo scusa, vi annunziamo ciò che abbiamo veduto. A cosa si rifà allora questo tema? Sì, ecco, se noi prendiamo proprio la prima lettera di Giovanni, da cui come dicevi tratta questa frase, questo versetto, ecco, sappiamo che la lettera è il suo culmine quando dice che Dio è amore. Sappiamo che l'amore si diffonde da sé, non lo blocca nessuno, ecco, i nostri atti di amore ci precedono e seguono anche la nostra vita. Ciò che ricordiamo degli altri sono proprio il loro amore nei nostri confronti. Allora, ecco, sembra che Giovanni, che scrive questa lettera, tutti coloro che hanno fatto esperienza di questo amore non possono tenere chiusa per sé questa verità, ma hanno bisogno di annunciarla. Ed ecco allora che grazie allo Spirito Santo che rende, dobbiamo sempre ricordarcelo, viva la parola di Dio, non è un libro scritto, è qualcosa che vive, tocca la mia vita, ecco che tutti possiamo, utilizzando un verbo tanto caro a Giovanni, vedere con i nostri occhi e nella nostra vita tutte le grandi opere della salvezza contenute all'interno della Bibbia. Dunque, non è un libro morto, ma è un libro vivo e noi siamo chiamati ad annunciare quello che abbiamo sperimentato proprio nella relazione con Dio o scopita attorno alla parola. La Domenica della Parola di Dio si colloca in un periodo importante dell'anno liturgico, siamo all'inizio dell'anno civile, ma siamo anche all'interno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Papa Francesco dice non si tratta di una mera coincidenza temporale, celebrare la Domenica della Parola di Dio, esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un'unità autentica e solida. Ecco, quello che io ti chiedo, Don Giovanni, è quale può essere questo cammino di unità che tutti insieme dobbiamo compiere verso questo obiettivo, che è l'unità stessa, appunto? Sì, innanzitutto, ecco, è da premettere questo fatto che la Bibbia, specialmente, ecco, per l'Antico Testamento, ci unisce al popolo di Israele, lo condividiamo insieme, con poche differenze, lo condividiamo anche con i nostri fratelli protestanti nell'Antico e nel Nuovo Testamento, dunque un libro che condividiamo anche con questi nostri fratelli. E proprio per questo, la Bibbia in realtà è un libro, e il libro un po' potremmo dire del popolo del Signore, dell'Antico Popolo e del Nuovo Popolo, che ascoltandolo, entrando in essa, permette, ecco, di farci passare dalla dispersione, dalla divisione all'unità, perché ci pone tutti quanti in ascolto dell'unico Signore. Allora credo che è importante proprio partire da questo, metterci in ascolto di quello che il Signore ci chiede, che va al di là un po' delle divisioni storiche che sono accadute, va al di là delle nostre concezioni, dei nostri pensieri, perché la parola di Dio è in grado di trasformare il cuore, di farci percorrere strade che tante volte sono veramente al di là di quello che noi possiamo pensare o immaginare. E questo ci permette di guardare, ecco, più quello che abbiamo in comune che quello che ci divide. Noi in comune abbiamo, con i nostri fratelli ebrei, ecco, tutti, ecco, il resto dei cristiani, abbiamo il Signore. Questa è la cosa più importante. la nostra relazione con il Signore e la parola di Dio sembra davvero voler far costruire da capo la nostra personale relazione con Dio e dunque anche la nostra relazione i fratelli gli uni con gli altri. E l'ultima domanda, Don Giovanni, è relativa all'amore, ecco, che questa domenica può far suscitare proprio per la parola, perché siamo a 60 anni, abbiamo celebrato pochi mesi fa i primi 60 anni del Concilio Vaticano II che ha voluto, tra i suoi documenti più importanti, proprio uno dedicato alla parola di Dio dal titolo emblematico dei Verbum, appunto. E voglio insieme a te condividere anche con i nostri amici telespettatori quello che recita la Costituzione quando dice come dall'assidua frequenza del mistero eucaristico si accresce la vita della Chiesa, così è lecito sperare nuovo impulso alla vita spirituale dalla cresciuta venerazione della parola di Dio che permane in eterno. È una domanda che magari può sembrare teorica, però magari la domenica della parola di Dio può insegnarci ad amare di più la parola. Quello che ti voglio chiedere è come si può far amare di più la parola? Sì, innanzitutto credo prendendo consapevolezza di una cosa che ci ricorda San Paolo proprio nella Lettera ai Romani. La fede viene dall'ascolto e poi continua San Paolo l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Dunque, da questo invito di San Paolo tante volte noi non sappiamo come accresce la nostra fede, capiamo l'importanza e l'urgenza di partire proprio dall'ascolto della parola di Dio. Un ascolto che segue due strade, due direttrici. L'ascolto comunitario, quello che avviene nella liturgia, quello che avviene in parrocchie. Ed ecco qui la lezione divina, i momenti di meditazione comunitarie, c'è in acoli del Vangelo che tante volte si praticano in molte parrocchie. Ma oltre a questo ascolto comunitario c'è anche un ascolto personale. E in questo ascolto personale nasce dal fatto che comprendiamo sul serio che la parola di Dio non è parola di uomini, non è un romanzo, non è un libro che leggo così per un po' per divagare o per accrescere semplicemente la mia cultura, ma è ciò che mi permette di entrare in comunione con Dio e questo permette di guardare anche e di creare comunione con me stesso, di vedere la mia interiorità. Potremmo dire che la parola di Dio è quasi uno specchio che permette di guardarmi interiormente. Allora partendo un po' da queste cose comprendiamo quanto sia importante concretamente amare di più la parola di Dio, creare una relazione personale con la parola. Oggi abbiamo tanti strumenti della tecnologia che ci aiutano, tante app che forniscono la possibilità di leggere quotidianamente le letture del giorno, di leggere la Sacra Scrittura, di leggere qualche commento, qualche commentino. Allora partire personalmente da questo, ricavarsi qualche minuto all'interno delle nostre giornate per mettersi in ascolto personalmente di Dio e di noi stessi per mezzo della parola di Dio. Credo che questo possa essere ecco lo strumento più efficace, più concreto e anche più diciamo alla nostra portata per amare di più la parola di Dio perché più l'ascoltiamo, più entriamo in essa, più la comprendiamo e più l'amiamo. Così un po' come le persone. Più le frequentiamo, più le conosciamo, più entrano all'interno del nostro cuore. E allora grazie a Don Giovanni Frisena, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Foggia a Bovino e buona domenica della parola di Dio. Buona domenica della parola a tutti e buona settimana. Ciao. Grazie. Restituiamo la linea alla regia. Grazie a tutti.